può una macchina da corsa volare scopriamolo insieme e per farlo sfrutteremo questi paracadute anzi una torre una torre di sti trampolini giganti abbiamo la torre ciò che dobbiamo fare adesso è metterci dentro la macchina e che dire massima velocità eeeh oh mio dio sto volando ok che dire mito confermato si può volare con una macchina da corsa e si va pure sotto la mappa per vedere il mito in cui sventisco 100 miti di fortnite in un solo video vai sul mio canale